La mia azienda è composta da 7 ettari di mele e 3 ettari. La mia azienda è composta da 7 ettari di vigneto, uva totalmente da vino. Nella mia azienda lavoriamo io e mio papà aiutati da alcuni operai a Bentizzi durante le principali operazioni di raccolta e durante l'estate. L'azienda è un'azienda di famiglia, mio padre è da più di 30 anni che lavora la terra dove anche adesso coltiviamo l'uva e le mele. Nel 2008 c'è stato uno sbalzo, c'è stato un fattore di crescita importantissimo. L'azienda in tre anni ha quasi raddoppiato le superfici, siamo passati da 3 ettari e mezzo di meletto e 1 ettaro e mezzo di uva a 7 ettari di mele e 3 ettari di uva. La necessità di riuscire a localizzare tutto il prodotto ottenuto nell'azienda ci ha fatto costruire questa cantina in quanto tutta l'uva che produciamo in azienda viene totalmente vinificata da noi. Non acquistiamo uva da terzi e vinifichiamo interamente il nostro prodotto. La nostra azienda aveva bisogno già da tempo di un centro di riferimento aziendale, abbiamo dunque deciso di aderire ai finanziamenti del PSR 2007-2013, abbiamo costruito la cantina di vinificazione nuova che abbiamo collegato poi alle cantine storiche e annessa alla cantina di vinificazione abbiamo creato questa vineria aziendale. Questa qui non è altro che una vineria vera e propria dove vendiamo solo la nostra produzione, è un vero e proprio agriturismo perché si vendono oltre la nostra produzione solo prodotti di aziende agricole del territorio. Questa vineria è un importante sbocco commerciale, noi riusciamo a vendere il più del 40% del nostro prodotto che è comunque un prodotto di nicchia, si parla di 10-12 mila bottiglie all'anno, solo qui. La restante parte del mercato è provinciale, regionale, ci stiamo muovendo in ambito nazionale, ci stiamo muovendo leggermente anche sull'estero, però è molto difficile. È già dal 2001 che estirpiamo e rimpiantiamo vigneti nuovi, i nuovi vigneti su 3 ettari, quindi un ettaro e mezzo, il 50% sono già completamente meccanizzabili, ossia prima del 2001 dovevamo fare il 100% delle operazioni manuali in vigna, mentre adesso il 50% è già completamente meccanizzabile, ossia attraverso dei trattori molto piccoli riusciamo a lavorare i vigneti. Questo è stato ottenuto solo cambiando drasticamente la morfologia del territorio, abbiamo tolto le viti vecchie, abbiamo livellato, abbiamo portato terra, abbiamo portato via sassi e siamo riusciti a rendere meccanizzabili i vigneti. Questa è una delle operazioni più importanti. Per quanto riguarda le mele, stiamo creando in questi ultimi anni degli impianti antigrandine, per evitare la caduta delle grandine, quindi il danneggiamento delle mele, soprattutto di varietà molto pregiate, che vengono riconosciute anche molto bene sul mercato. Per quanto riguarda la tecnologia in azienda, per noi è fondamentale, anche perché non avendo tutto questo tempo, siamo sempre impegnati in campagna, con il telefonino ci arrivano le mail, rispondiamo alle mail, facciamo tutto con… facciamo tutto… diciamo che posso tranquillamente dire che il 50% delle vendite del vino riusciamo a farlo senza essere presenti in azienda, quindi ci arrivano gli ordini, noi sappiamo in tempo reale l'ordine che ci è arrivato, dopo ovvio provvediamo noi a andare a consegnarlo, però ecco, siamo sempre assistiti da quel punto di vista, quello è fondamentale, l'UEB e tutto quello che ne deriva. Tutto questo, tutto il nostro impegno, tutto il nostro lavoro è sempre… noi ci teniamo sempre a dirlo, noi siamo… l'agricoltore è quello che salvaguardia, tutela il patrimonio che sta attorno, quindi ecco, credo che gli investimenti in agricoltura siano gli investimenti migliori che ci siano. Qualsiasi altro settore vede la terra in un'altra ottica, vede la terra per costruire, vede la terra per fare altri progetti, noi vediamo la terra per coltivarla e per tirarne frutti.